Calcio a Massala, ancora tutto da decidere, il destino del futuro del calcio massalese, queste sono le immagini dello stadio della tribuna di qualche anno indietro, diciamo che la situazione del calcio a Massala tutto si deciderà chiaramente nei prossimi giorni, la trattativa con il signor Onorio continua per rilevare il titolo sportivo doccio Onorio Massala, chiaramente nei prossimi giorni vi daremo aggiornamenti.